Guardate quanto è spesso questo smartphone. È spesso 10 mm ma all'interno c'è una batteria da 6050 mAh che lo rende un dispositivo quasi impossibile da scaricare. Scopriamolo nella nostra recensione. Unlephone Power 2 è quindi uno smartphone che punta tutto sull'autonomia grazie a questa batteria così capiente che però ha ovviamente bisogno di uno spazio altrettanto capiente per essere inserita insieme a tutto il resto all'interno del telefono. Ma prima di parlare della batteria vi vorrei parlare proprio di tutto quel resto perché devo dire non è solo l'autonomia il punto di forza di questo smartphone che si difende bene anche in termini di schermo e di prestazioni. Lo schermo intanto è un'unità da 5.5 pollici full hd IPS che garantisce una buona qualità dei colori una buona visibilità anche in esterno un ottimo trattamento olio repellente mi è sembrato solo generalmente un po' impastato durante l'utilizzo insomma non è assolutamente fluidissimo il touchscreen ogni tanto un po' si impalla però devo dire che per la fruizione di contenuti per guardarsi qualche video su youtube o magari anche qualche serie tv al volo su netflix può andare più che bene lo schermo in sé per sé non è affatto male appunto l'unico problema è legato più che altro al touch ma può migliorare con gli aggiornamenti e tra l'altro devo dire che Ulefone ha già rilasciato due aggiornamenti per questo power 2 da quando mi è arrivato in test invece non giudicate il telefono dal suo processore perché pur avendo a bordo un chip Mediatek devo dire che gira piuttosto bene poi nell'utilizzo quotidiano in particolare il processore a bordo di questo smartphone è il nuovo Mediatek 6750T un processore che non credo di aver mai provato nei vari cinesoni che mi sono capitati tra le mani e che devo dire ha reso piuttosto bene ovviamente non stiamo parlando di un top di gamma ma anche grazie ai 4 gigabyte di ram insomma questo telefono è in grado di eseguire tutte le operazioni quotidiane senza troppi problemi e anche sufficientemente veloce ad attivare e a risvegliare dal background le applicazioni e anche nei giochi sinceramente non ho notato problemi ho notato un livello di dettaglio forse non al massimo ma la fluidità beh quella c'è sempre e poi c'è anche una buona memoria c'è una buonissima memoria che infatti parte da 64 giga su questo smartphone che per quello che costa e vedremo dopo quanto costa non è assolutamente male opinioni positive anche sul sensore d'impronte che si trova qua davanti questo in realtà non è un tasto è soltanto il sensore d'impronte poi ci sono i tasti a navigazione sullo schermo il sensore in sé non è velocissimo ma quantomeno è molto preciso infatti sblocca anche 10 volte su 10 quindi veramente un ottimo lavoro da parte di Ulefon spesso questi produttori di smartphone asiatici inseguono la velocità e poi ci dimenticano della praticità dello sblocco che deve soprattutto funzionare invece Ulefon ha puntato appunto su una soluzione che funziona magari c'è da aspettare qualche frazione di secondo in più però appunto è di sicuro una soluzione affidabile buone e cattive notizie invece per quanto riguarda la connettività abbiamo wifi a bgn abbiamo il bluetooth 4.1 abbiamo l'otg tramite la porta micro usb mannaggia e qui è la prima cosa negativa che c'è sì l'otg ma c'è la micro usb un usb c sarebbe stata di sicuro più appropriata su questo smartphone e l'altra cattiva notizia è dal punto di vista delle reti perché manca il supporto alla banda degli 800 megahertz il telefono è comunque un dual sim e supporta le nano sim potete inserirne due oppure una soltanto se volete invece ampliare la memoria le fotocamere su questo smartphone non mi hanno particolarmente rapito perché sono fotocamere abbastanza nella media una da 13 l'altra da 8 megapixel che per interpolazione passano a 16 e a 13 megapixel in sostanza ragazzi gli scatti sono nella media del settore nella media degli smartphone asiatici tra i 100 e i 200 euro quindi scatti buoni di giorno scatti meno buoni di notte gli sfocati sono abbastanza poco pronunciati in ogni caso il dettaglio è sempre non all'altezza di altri smartphone i video sono molto scattosi non c'è dettaglio neanche lì quindi non è un telefono da acquistare per le fotocamere questo mi pare più che scontato ma una piccola sorpresa in realtà su questo smartphone c'è perché uno dei primi ad arrivare con una base ufficiale di android 7.0 nougat a bordo appunto basata su chip mediatek ovviamente ma devo dire che il telefono si comporta bene si comporta bene le novità di nougat non sono tantissime sono più che altro volte all'ottimizzazione quindi questo non può che far piacere su uno smartphone come questo abbiamo le classiche funzionalità mediatek come la programmazione di accensione spegnimento il turbo download ma in realtà poi ci sono tante funzioni utili in più ci sono una serie di funzioni invece secondo me abbastanza accampate all'aria così come le floating gesture altri menu che compaiono e scompaiono insomma una serie di piccole funzioni che vorrebbero arricchire l'esperienza utente io le ho disattivate dopo mezzo secondo parliamo però di questa batteria da 6.050 mAh che ragazzi pensateci un attimo sono più del doppio dei mAh a bordo di galaxy s8 e la differenza guardate un po si sente infatti con questo smartphone riusciamo a chiudere tranquillamente due giornate di utilizzo standard con un utilizzo intenso comunque vi avvicinate una giornata e mezzo oppure con un utilizzo particolarmente soft beh non sarà un problema completare anche tre giornate di utilizzo l'unico appunto che posso fare a questo smartphone dal punto di vista dell'autonomia è il fatto che non ci sono grosse opzioni per il risparmio energetico anzi non ce ne sono c'è solo il risparmio energetico di android che però come sappiamo influisce sempre molto poco e anche su questo smartphone insomma non fa eccezione praticamente non cambia quasi nulla però ottima autonomia se cercate un muletto se cercate un primo telefono che duri tanto in ogni caso se avete bisogno di uno smartphone che in primis guardi all'autonomia beh con una spesa inferiore ai 200 euro su gear best dove l'abbiamo acquistato noi vi arriva anche con lingue italiane play store già installato questo un iPhone power 2 potrebbe essere un'ottima scelta quindi lo consiglio a chi cerca autonomia forse anche a chi cerca uno schermo piuttosto buono delle prestazioni ok non è ovviamente un telefono per far foto quindi dovete accettarlo ma dal punto di vista della batteria beh è difficile far meglio che che Grazie a tutti.